Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento d'alpinismo e non solo del marchio Karpos. Restate con me fino alla fine perché vi assicuro che vi sorprenderanno sia per le loro performance ma soprattutto per il loro prezzo. Ma iniziamo subito la recensione e ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo dal pantalone che fa parte della collezione Storm Evo di Karpos, infatti lo sono gli Storm Evo Pants, è della stessa collezione, poi ne fa parte anche la giacca che vediamo dopo. La prima cosa che vado assolutamente a dirvi su questi pantaloni sono la loro membrana. Questi pantaloni utilizzano una membrana di Karpos che è dichiarata 20.000 colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità e 40.000 per quanto riguarda la traspirabilità. Di questo poi ne parliamo naturalmente anche sulla giacca ma devo dire che a livello di impermeabilità nessun problema, possiamo utilizzarle anche sotto una pioggia o una neve battente e andiamo tranquillamente e anche per quanto riguarda la traspirabilità vanno molto bene. Poi su questi pantaloni troviamo una feature che ne aumenta ancora di più la traspirabilità ovvero abbiamo due cerniere laterali che ci permettono di poter aprire completamente il pantalone e oltre a facilitarci il fatto di poterli mettere e togliere con le scarpogne addosso ci permettono anche di poter aprirli completamente e aumentarne davvero tanto la traspirabilità. Altre caratteristiche che troviamo, innanzitutto nella parte inferiore c'è un inserto in materiale più resistente per evitare che se ci dovessimo ramponare andremo a rompere il pantalone. Non è presente purtroppo un gancetto da andare a mettere sul pantalone per tenere il pantalone basso e non è presente nemmeno una piccola ghetta o qualcosa che vada a chiudersi sullo scarpone per evitare che possa entrare la neve. A livello di tasche ne troviamo una soltanto nella parte cosciale sinistra, bella ampia, soprattutto poi all'interno c'è anche la possibilità di inserire l'arva con l'apposito gancetto. Nella parte superiore poi è abbastanza classico come pantalone perché la chiusura è fatta con la semplice zip, due bottoni, proprio classico di tanti pantaloni e per andare a regolarlo abbiamo le classiche cinture laterali da andare a tirare con lo strap. Non solo perché poi possiamo anche mettere un'ulteriore cintura perché ci sono i passanti. Devo dire che dal punto di vista dei materiali è fatto veramente molto bene, io l'ho utilizzato per farci sia dell'alpinismo sia anche una cascata di ghiaccio, anche ciaspolate e non ho avuto nessun tipo di problema e poi davvero a livello di performance con questa membrana sono dei pantaloni veramente eccezionali. Passiamo ora al secondo strato ovvero Rocchetta Fliss, esiste sia una versione con che senza cappuccio, questo è uno secondo strato veramente molto caldo è caratterizzato da due tipi di tessuti, entrambi comunque micropile. La parte di tessuto messa nella parte frontale è veramente soffice al tatto, è il classico pelosone cosiddetto di Carpos che è veramente caldo ma allo tempo stesso offre comunque una certa traspirabilità nella parte sotto la scelle ovunque dove andiamo a sudare di più. Questo perché come dicevo è caratterizzato da due tipi di fliss diversi, nella parte anteriore pensato per tenerci al caldo e proteggerci anche dal vento, sotto le scelle anche nella parte inferiore è caratterizzato da un fliss più traspirante per andare a fare evacuare il sudore. C'è da dire comunque che è veramente molto molto caldo, utilizzato una temperatura sopra lo zero si tende a sudare parecchio perché appunto è un capo da utilizzare quando la temperatura scende sotto lo zero. Dipende poi naturalmente anche il primo strato che avete quanto è caldo, però lui diciamo che tende ad essere molto più termico rispetto che traspirante. A livello di caratteristiche innanzitutto troviamo la parte inferiore dei polsini, chiusa con un elastico per evitare che entri l'aria fredda, ha una zippa a tutta lunghezza che ci permette di poterlo mettere e togliere facilmente, come vi dicevo esiste versioni con e senza cappuccio, ma entrambe hanno un colletto abbastanza alto che ci protegge anche la parte del collo da eventuale aria fredda. Troviamo due tasche poste nella sua parte del petto, molto semplici con zip, dove poter riporre qualche oggetto e per il resto non troviamo chissà chi di altre caratteristiche perché lui comunque ha un secondo strato abbastanza classico, ideale per farci dell'escursionismo, anche dell'alpinismo, però davvero dal punto di vista della termicità è davvero un ottimo capo. Passiamo ora a parlare della giacca, come vi dicevo anche lei della collezione Storm Evo e anche lei con la medesima membrana che abbiamo messo nel pantalone, quindi 20.000 colonne d'acqua di impermeabilità e 40.000 di traspirabilità. Qui analizziamo molto bene la traspirabilità perché sull'impermeabilità non ha nessun problema, sulla traspirabilità è proprio il punto in cui mi ha veramente sorpreso, soprattutto poi per il prezzo che andiamo a vedere successivamente è una giacca molto molto traspirante. Pensate, è talmente traspirante che la car possa deciso di non mettere le cerniere classiche sotto la scelle per andare ad evacuare ancora più sudore perché appunto già di su è molto traspirante. A livello di caratteristiche troviamo naturalmente la classica cerniera che ci permette di indossare la giacca fatta molto bene, scorre senza nessun problema e non si è rotta. Nella parte inferiore abbiamo due elastici che andare a chiudere per evitare che entri aria fredda e idem sulla parte dei polsini possiamo chiuderli per evitare l'ingresso di aria. Troviamo un cappuccio bello grosso in cui possiamo anche andare a utilizzarlo con sopra un casco che ha due regolazioni, una sulla parte del collo e una sulla parte posteriore della testa per poterlo adattare al nostro cranio. E a livello di tasche troviamo due tasche messe sulla parte pettorale dove andare a riporre degli oggetti e sono messe un pochino più in alto rispetto alle classiche tasche proprio per poterle utilizzare anche quando abbiamo addosso un imbrago. E poi troviamo con una taschina nella parte interna fatta a rete se vogliamo tenere a riparo qualche oggetto e tenerlo vicino al corpo. A livello poi di materiali anche lei è fatta molto bene, l'ha utilizzata per fare dei canali strusciandola su roccia, non ha nessun punto in cui si è tagliata, davvero molto bene a livello di materiali, ma veramente la caratteristica che mi ha stupito di più, come dicevo, è la sua traspirabilità, perché adesso poi del prezzo vi esiguro ne parliamo, beh è davvero tanta tanta roba. Arriviamo infine al piumino chiamato la Stay Active Plus Jacket, lui è un piumino ibrido che ha un sacco di tecnologie. Inizio subito raccontandovi l'imbottitura, perché lui utilizza due tipi di imbottiture, una Primaloft, che possiamo vedere nella parte colorata di rosso, e poi anche una Key System Down, che invece è la parte colorata del piumino di verde scuro. Abbiamo due tecnologie poste in due punti diversi, proprio per avere due tipi di prestazioni diversi, ovvero la parte verde scura è quella che ci deve garantire un isolamento dal vento, deve garantirci calore, ed è anche la parte meno traspirante. La parte invece rossa, quindi quella di Primaloft, è la parte che ci garantirà un pochino magari calore, ma molta più traspirabilità, e al tempo stesso poi questa parte colorata di rosso è realizzata anche con una membrana Key Drive, che ha 20.000 colonne d'acqua, quindi le parti esterne sono veramente impermeabili. Ma non solo perché poi la parte verde scura, realizzata con materiale un pochino più caldo, ha anche un trattamento Pertex Quantum, che ne garantisce comunque una buona idroperrepellenza. Quindi veramente abbiamo due tipi di imbottitura in base a dove sono state messe, e anche due tipi di trattamenti per quanto riguarda l'impermeabilità, in base al punto in cui sono. Parlando invece dei sue caratteristiche, vabbè, innanzitutto abbiamo la classica zip per aprirlo, che anche qua lavora molto molto bene. Abbiamo due tasche nella parte esterna chiuse da zip per ottenere qualche oggetto, e due ulteriori tasche nella parte interna non chiuse, in cui anche qua riporre ulteriori oggetti. Possiamo andare a chiudere la parte inferiore del piumino con un elastico per stringerlo bene attorno alla nostra vita, e anche i polsini hanno una parte elastica per evitare che entri aria fredda. Il cappuccio poi è fatto veramente molto bene, però diciamo slim fit, nel senso che aderisce molto bene alla nostra testa e non si riesce a mettere dal di sotto un casco. Piuttosto il casco sarà da mettere sopra il piumino. In generale devo dire un piumino comunque molto comprimibile, peccato che in dotazione non sia data una pochetta dove andare a richiuderlo all'interno, però comunque abbastanza comprimibile, e un piumino con il quale potete farci un po' di tutto, dall'alpinismo all'escursionismo allo scialpinismo. Vi assicuro io sono arrivato a meno 15 con lui addosso e il flisse sotto senza nessun problema, è davvero molto molto caldo. Come temperatura secondo me può andar bene da un 5 gradi a un meno 15. Poi dipende un po' anche quanto siete calorosi, ma più o meno come range di temperatura terrei questo. Arriviamo dunque ai prezzi di questo abbigliamento di car, posso perché c'è anche qua un bel po' da dire. Iniziamo dal pantalone, pantalone che in questo colore viene venduto a 290€. Se non avete problemi di colore, esistono altri colori che sono venduti a 210€, ma non solo perché alcuni colori online si trova anche sotto i 200€. Stesso ragionamento per la giacca, questo colore costa 320€, sempre sul sito di car, posso altri colori, li si può trovare anche a 220€, ma non solo perché alcuni colori online si riesce a trovare sui 200€. Se andiamo a mettere insieme pantalone e giacca, e veramente non vi interessa il colore, possiamo prendere questo abbigliamento Arshell anche a meno di 400€. Visto che ho considerato che tantissimi produttori hanno dei prezzi che se mette insieme l'abbigliamento Arshell tra pantalone e giacca, sfori anche 1000€, è veramente molto molto economico con delle ottime performance. Per darvi un'idea di quanto è economico, se prendiamo l'abbigliamento Arshell di Decathlon, messo insieme giacca e pantalone, si arriva all'incirca 330€. Questo costa 60-70€ in più, ma ha delle performance veramente superiori. Cioè il prezzo tra pantalone e giacca è veramente molto molto interessante. Il flis dipende, se lo prendete con cappuccio o senza cappuccio, col cappuccio stiamo sui 120€, senza lo troviamo anche a 70-80€. E per quanto riguarda il piumino, in questo colore sta sui 260€. Anche qua, se non vi interessa il colore, lo trovate in altre colorazioni a 200€. E anche lui, secondo me, è un ottimo piumino, 200€ come prezzo ci sta, perché è veramente caldo e ha un sacco di tecnologie. Come avete visto, i prezzi sono veramente interessanti. Se non avete esigenze particolari di colore, potete portare a casa tutto questo abbigliamento a prezzi veramente, veramente scontati. Quindi ragazzi, nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!